Due autocarri di proprietà di un'azienda ortofrutticola di Francavilla Marittima, in provincia di Cosenza, sono stati completamente distrutti da un incendio. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Cassano, che al momento non escludono alcuna pista, anche se privilegiano quella dolosa. L'incendio è divampato in località Silva, dove i due furgoni erano parcheggiati sulla strada, l'uno accanto all'altro. Le fiamme non hanno coinvolto, altre vetture presenti nelle vicinanze. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Francavilla, di Cerchiara e della Compagnia di Cassano, sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, giunte da Corigliano Rossano, Castrovillari e dal presidio volontario di Trevisacce, che hanno lavorato alcune ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. I militari inoltre hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.